ciao ragazzi sono infiltrator e bento questo video oggi siamo nella terza e speriamo anche l'ultima parte di questa mappa della sky parkour e se vi siete passi youtube visori vi consiglio di andare a vedere perché se fa tutto son baranda che ci sta qua sotto e cercheremo noi in questo qua di fare tutto quello che c'è qua sopra per arrivare a quella nuvola lì e finire dannamente questa mappa e direi subito di iniziare ricordandovi anche che qua sotto qua non ci sono checkpoint quindi se muoio rinizio direttamente da lì dove inizia l'arcobaleno quindi bisogna cercare di non cadere e di fare meno danni possibili ecco perché io parlo ok ok mappi madonna mia ok e siamo finalmente a giallo ecco perfetto ok 1 2 e oh mio dio sali sali perché non sale sto coso ok ok donna sti slime proprio li mette in dei modi ok arancione perfetto ok ok perfetto ok rosso io vi consiglierei comunque se andrete a giocare questa mappa nella parte questa qua della cobaleno di mettervi a ogni colore uno spawn point però ovviamente io non lo sto facendo perché voglio finire questa mappa legittimamente quindi allora muo' questo qua ok ma come cavolo faccio a farlo questo scusatemi un attimo se è possibile ah si è possibile non sapevo vabbè ok ecco mo' lo fa matrix per arrivare a sta scala ok 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 stavo anche per mancarlo lo slime noi ci siamo quasi ultima fila di colori ok no mi stanno sudando le mani come non so che cosa ok 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 azzurro ok 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 perfetto verde verde mmmm madonna madonna mia madonna ok ecco di nuovo qua ok perfetto benissimo benissimo ok ok e niente un'altra volta ok 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 giallo ok ok comunque scusate se in questi video non ho parlato tanto non ho parlato tanto ma questa non ho parlato tanto ma questa era stata veramente una mappa difficile e adesso che vi manca poco davvero ok ok perfetto perfetto oh dio nooo ok 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 eccoci di nuovo l'arancione ok ok nooo madonna mia finalmente il rosso dai nooo e niente basta ok ho provo con l'opper salto si ok ci siamo quasi ok Sì Ah finalmente Oddio mio Parcure start col cavolo che lo restarto Ti attacchi proprio No mamma mia finalmente sta mappa finita A questo punto saccheggio tutto dai Faccio razzia dai Ok E in queste Vabbè ci sarà carbone ma il carbone non serve Finalmente Mamma mia si è veramente finito questa mappa In tre episodi ma davvero È stata davvero straziante E nulla ragazzi spero che questa serie Vi sia piaciuta fatemi sapere Se volete che magari posso portare anche Altre mappe parkour Lasciate un bel piacere iscrivetevi al canale Fatemi anche sapere qualche consiglio per magari Qualche altro nuovo video e nulla Dai Filtrator è tutto Ciao ragazzi